in 2018 per me è stato un anno straordinario ho avuto la possibilità di collaborare con molte aziende e creare contenuti per loro ho avuto la possibilità di viaggiare fare nuove esperienze nuove amicizie e consolidare quelle vecchie ho girato in totale 40 video non tutti sono stati video agricoli infatti ho realizzato anche 5 after movie per marco marzi e marco scarica di radio number one un video per una pizzeria dei video per un barbiere e un video a una band gli iscritti sono stati più di 1200 ahimè 141 hanno deciso di abbandonarmi quasi 3000 e mi piace 96 persone hanno avuto un problema con il mouse più di 205 mila le views il 60 per cento sono state fatte da dispositivo mobile a Grazie a tutti. 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 Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e lasciate un like. Sarò breve, volevo solamente ringraziare moltissimo tutti coloro che hanno creduto in me e tutti coloro per cui ho potuto girare un video, ma soprattutto grazie a voi che avete guardato e condiviso i video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.